Per realizzare il plum cake avremo bisogno di 200 g di farina 00 con 50 g di fecola, 200 g di zucchero, un vasetto di yogurt, 3 uova, 120 g di olio di semi, il succo di un'arancia e il lievito. Ho messo le uova nella planetaria, ora ci metto lo zucchero e faccio sbattere per qualche minuto. Ora ci aggiungo l'olio, lo yogurt e ora aggiungo il succo d'arancia, le farine e il lievito. Ho imburrato e infarinato una teglia da plum cake e ora ci vado a versare il mio composto. Vado ad infornare a 180 gradi per 30-40 minuti. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi così avrete sempre nuovi aggiornamenti sui nuovi video e potete attivare la campanellina che trovate qua sotto in basso per ricevere sempre le notifiche ogni volta che pubblichiamo un video. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie di aver visto questo video. Ciao a tutti!